Cima del Lago Una cima forse poco conosciuta ma molto gratificante dal punto di vista paesaggistico. La cima si trova sul lato sud della valle Rio del Lago, a confine con la Slovenia. Per raggiungere il punto di partenza, passando per la Val Canale, si arriva a Chiusaforte e si prende poi la Valla Racolana, passando per Sella Nevea, fino a giungere a una località chiamata Parco Ierebizza. Si dovrebbe partire per il sentiero 653, ma in realtà la mappa tabacco riporta degli errori. Bisogna prendere il 654, quindi a quota 1070 c'è l'intersezione con il 653 che porta a Sella del Lago e quindi alla cima. Il rientro avviene sullo stesso percorso. La Valla Racolana ci sorprende sempre con i suoi splendidi paesaggi. Dopo 24 chilometri da Chiusaforte raggiungiamo il punto di partenza, Parco Ierebizza. Tentiamo di percorrere il sentiero 653 come erroneamente indicato sulla mappa. Seguendo la traccia col GPS, a quota 1280 circa, incorciamo il sentiero 653. Ecco un timido tentativo di Giorgio in ambiente boschivo. Il sentiero non è dei più agevoli, ma dal punto di vista paesaggistico è veramente spettacolare. A quota 1718 raggiungiamo Sella del Lago. Eccoci qua ragazzi, l'impressione è di aver sconfinato in Slovenia, visto che lì sopra c'è il cipo di confine. Siamo alla Sella del Lago. Proprio davanti a noi, l'emolgenza grande, di fronte abbiamo tutto il gruppo del Montasio. Ecco da qua ci mancano ancora 400 metri per la cima. Dopo Cima Inese, passiamo sotto il Goreni Vogel. Dopo Cima Inese, passiamo sotto il Goreni Vogel. Dal Goreni Vogel ci fermiamo per una panoramica del Canin e del Montasio. Oltrepassiamo dei crepaci in cui troviamo ancora delle lingue di neve. Lontano dall'alto vedevamo qualcuno arrivare ed ecco la sorpresa. Come abbiamo potuto poi conoscere erano Sally e la figlioletta Gael. Sally, con il suo tenero carico, ha percorso i 1200 metri per raggiungere la cima in due ore. Come si chiama? Gael Gael? E tu? Sally Sally e Gael Bobbi, mettiamolo nel video. Ok Vai in orizzontale Eccolo Ciao 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 tesoro Qui lo spessore c'è Noi proseguiamo la nostra salita in mezzo al tripudio di fiori e di colori. Siamo quasi in cima, Val Trenta, il Mangart e lo Jalovec. Ecco la vetta è raggiunta, lo spettacolo che ci appare davanti è veramente ineguagliabile. Quest'anno il lago per fortuna è colmo, contrariamente a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Davanti a noi l'inconfondibile Mangart è la prima volta che ci capita la pioggia quando si arriva in cima. Mi sta grandine! Andiamo a noi. Attendiamo un po' prima di scendere, ma la pioggia aumenta. Vista la situazione, prendiamo la via del ritorno. Si scende e non piove più, porca la miseria! bisognava avere il coraggio di aspettare in cima grazie per la visione ricordatevi di iscrivervi al canale incrociamo il sentiero 654 che va verso in urgenza prima di raggiungere la destinazione finale